Ciao ragazzi, stanchi della quarantena? È arrivato il momento di andare a pescare. Procuratevi l'abbigliamento adeguato, altrimenti i pesci si accorgono, quindi mimetismo innanzitutto. Seconda cosa, una canna professionale. Procuratevi il materiale adatto per la pesca all'aspronotus o cellatus. A questo punto non ci resta altro che andare a insediare le nostre prele. Questa è la nostra postazione di oggi. Allentiamo la pressione e poi sarà tutto un gioco di polso. Non ci possono scappare. L'importante ragazzi è muovere l'esca come se fosse viva. Entrando nel loro territorio li distrubberemo e vorranno attaccarci. Ecco che arriva, ecco che arriva adesso. È curioso, non ho ancora capito se è una prega o se è un minaccio. Fate pinta di essere in difficoltà. Non potrà resistere. Ecco, si è attaccato. Ha dato il primo saggio con gli squadroni. Ormai ha capito che siamo una prega. Non possiamo sfuggire. Preso! Grande! E vai! E ti come tira! E ti come tira ragazzi! Che pesca, che pesca! Anche oggi ce l'abbiamo fatta! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Grazie.